Una notizia che ci riguarda da vicino, la direzione TEC e il centro ricerche RAI sono capofila di un progetto europeo per realizzare un sistema di archiviazione standard degli audiovisivi e creare un'unica grande banca dati virtuale. Tempo tre anni. Tempo tre anni. TEC e il centro ricerche si occuperà essenzialmente di trovare della tecnologia, dei sistemi di algoritmi in grado di garantire il più a lungo possibile la resistenza del file digitale di archivio anche per le prossime evoluzioni tecnologiche. Una quantità di documenti tra programmi tv e radio è enorme e che aumenta di giorno in giorno. Ecco perché il sistema deve avere un programma di ricerca sempre più intelligente. Più è grande la quantità di materiale più la macchina deve essere intelligente ad aiutare a ricercarla. Importantissimo anche il ruolo delle TEC che stanno lavorando alla tracciabilità, un sistema cioè di classificazione dei diritti. In modo che l'editore, in questo caso la RAI, possa sempre ricostruire il percorso del suo materiale anche sulle nuove reti internet satellitari e digitale terrestre.